buongiorno amici benvenuti quest'oggi vi ho portato sul canale un prodotto particolare che mi ha incuriosito visto un sacco di video ho visto recensioni di ogni genere e dato che anch'io avevo esigenza di cambiare portafoglio ho voluto acquistare il portafoglio smart della moero che di smart non ha nulla di tra virgolette tecnologico bensì è un prodotto molto funzionale molto compatto che voglio subito mostrarvi confezione già dall'esterno si presenta molto elegante ma andiamo a scoprire il suo interno ecco qua troviamo certificato di qualità perché questo questa linea di portafogli viene assemblata interamente in italia è un prodotto italiano certificato con pellame di qualità italiana lavorati con laboratori italiani e di conseguenza già a primo impatto dall'idea di un prodotto di fascia alta attenzione inserire massimo di 6 carte nel portacarte alluminio sì perché la funzionalità tra virgolette smart di questo portafoglio è proprio sta proprio nel scusate perché con una mano ecco qua sta proprio in questo case in metallo rf di protector praticamente come dovete sapere il l'attività truffaldine al giorno d'oggi sono specializzate in qualsiasi campo in qualsiasi settore e con le carte di pagamento che ormai sono contactless i truffaldini cosa fanno metropolitana su mezzi pubblici per strada si avvicinano alle vostre tasche dei pantaloni alla vostra borsa con dei post e siccome il possa un range di azione di qualche centimetro due tre centimetri se volete in portafoglio comune loro non fanno altro che appoggiarvi il il post contactless alla borsa e nei casi dei più sfortunati riescono a prelevarvi senza che voi non sappiate neanche fino a 25 euro alla volta perché sotto i 25 euro non è necessario il pin mentre con questo case le vostre carte saranno protette e al sicuro ora vi mostro come funziona non dovete far altro che schiacciare questo pulsante e le carte verranno spinte fuori da un meccanismo a molla scegliete la carta di credito che vi serve dopo di che le rischiacciate in giù e vengono bloccate automaticamente da questo meccanismo che andrà a impedire tramite il bloccaggio di quest'angolino la fuoricita delle vostre carte vi serviranno nuovamente schiacciate il pulsantino scegliete la carta che vi serve dopodiché ripeto pigiate in giù e le vostre carte saranno al sicuro nonostante scossoni movimenti accidentali o che le carte rimarranno sempre ben protette all'interno di questo case che sia ve le ripara dai malintenzionati e allo stesso tempo con questo meccanismo impedisce la perdita accidentale delle carte che a differenza di prodotti simili ma meno meno costosi questo ha questo meccanismo proprio fisico non ha dei feltrini come hanno altri meccanismi all'interno che man mano che si usano questi feltrini perdono attrito sulle carte e girate sotto e sopra il portafoglio e le carte vi cadono a terra questo portafoglio è veramente eccezionale perché un prodotto così piccolo riuscite a farci stare fino a 6 carte come dice in pro memoria 6 carte nel case di alluminio e altre 6 carte divise nelle tasche interne cioè qua 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 avete portafoglio per le banconote e cosa aggiuntiva in questo modello che ho preso io mi sembrava una mancanza troppo grande per non prenderlo sul retro è presente questa pratica zip con taschino espandibile faccio vedere che è un pratico porta monete un gadget irrinunciabile vediamo se così si vede meglio un gadget irrinunciabile la moero stessa garantisce una capienza massima di fino a 10 monete da da un euro ora procederò al riempimento e vediamo un po se riesco a farci stare tutto ciò che avevo nell'altro mio portafoglio che era grande non dico il doppio ma quasi di questo questa è la prima impressione e già mi ha fatto un'ottima impressione come prodotto ora andrò a sostituire il mio vecchio portafoglio che è un panino gigante a questo qua molto compatto innanzitutto vediamo se riesco a farci stare tutto quello che avevo e come recensione di primo impatto positiva successivamente tra un mesetto 23 farà una seconda recensione dove vedremo se nel tempo sarà un prodotto valevole e duraturo o si è rivelato un flop anche se non credo ciao ragazzi alla prossima niente piccola aggiunta vuol dire che c'è stato perfettamente tutto ciò che avevo nel portafoglio vecchio carte carte entità patente monete nonostante abbia messo dentro sei o sette monete l'ingombro è praticamente insignificante dentro alla scatola c'era anche il bigliettino di ringraziamento della moero ma con loro sito ufficiale ma moero sono io che ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di provare questo portafoglio che a primo impatto mi sembra un prodotto eccezionale ci risentiamo anzi ci rivediamo tra un mesetto due per gli aggiornamenti sul comportamento del portafoglio smart moero nel tempo grazie e a presto come sempre se vi è piaciuto il video mettete un bel like iscrivetevi al canale e condividete un saluto dal vostro max review a presto ciao